Una giuria tutta al maschile è quel che i telespettatori potrebbero trovare per la nuova edizione di X-Factoral via a settembre su Sky 1 Dopo le voci che vogliono Achille Lauro, il quale non conferma ma si limita dire, ci spero ma non so niente, e Joe Bastiani c'ha il tavolo dei giudici, e quest'ultimo per il talent sarebbe pronto a lasciare persino Masterchef Arrivano le indiscrezioni sugli altri due possibili nomi ingaggiati dallo show La giuria di X-Factor 2019 secondo quanto riferisce il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 17 aprile, infatti, gli altri due artisti che potremmo vedere in veste di giudici sarebbero Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi Il primo è il frontman dei giornalisti e non è la prima volta che, negli anni, viene fatto il suo nome Paradiso, inoltre, ha già gravitato nell'orbita di X-Factor sia come ospite musicale che come quinto giudice in fase di audizioni Il secondo invece è il leader dei Negramaro e rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio per il programma Zero quota rosa dunque, in realtà una persona sarebbe stata contattata, e sarebbe Emma La cantante lanciata da Amici però si legge sulla rivista, si è presa una pausa di riflessione per decidere, les blockades, why?